Parliamo di un GOES 520 dell'anno 2008 che ha percorso 4.500 km, due proprietari dotato di cerchi in lega, portapacchi anteriore e posteriore, verricello, sospensioni indipendenti, marce ridotte, blocco elettronico del differenziale anteriore, il mezzo è tagliandato, come potete vedere molto bello, completo di slitta in ferro di protezione, 12 mesi di garanzia con rate a partire da 86 euro mensili, prodotto controllato e revisionato presso l'officina Crociani Group.